ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video qui a fianco a me vedete la canyon endurance cf slx 8.0 uno dei tanti prodotti che stiamo testando in questo periodo anzi con l'occasione vi dico di continuare a seguirci sui nostri canali social perché abbiamo veramente tanta carne al fuoco e quindi nelle prossime settimane vi mostreremo molte cose la endurance è la bici endurance di canyon del marchio tedesco che come sapete vende esclusivamente online cioè la bici che è pensata per avere comfort guidabilità ma allo stesso tempo non sacrificare le prestazioni come vedremo da alcune soluzioni relative alle geometrie che sono particolarmente interessanti quella di oggi è la terza uscita che faccio con la endurance quindi ancora presto per potervi dare un giudizio anche se un'idea di massima me la sono già fatta però per la valutazione conclusiva vi do appuntamento tra qualche settimana in questo video voglio parlarvi brevemente velocemente delle caratteristiche tecniche e dell'allestimento di questa versione 8.0 partiamo dalle geometrie io sono alto un 83 pedalo a circa 77,5 di altezza sella e ho scelto una misura l vedete lo trovate qui non so se riuscite a vederlo in base all'indicazione di canyon avrei potuto optare anche per una m però avrei dovuto utilizzare un attacco manubrio più lungo per trovare l'assetto con cui sono abituato quindi ho preferito scegliere una misura più grande in questa misura abbiamo un tubo orizzontale da 56,8 centimetri tutto sommato non particolarmente lungo e un tubo sterzo invece abbondante da 18,4 centimetri che si associa di conseguenza ad uno stack pronunciato di oltre 60 centimetri questa impostazione geometrica ovviamente permette di avere una posizione in sella abbastanza rialzata sull'anteriore quindi più confortevole le altre scelte fatte da canyon in merito delle geometrie però sono più vicine a una bici da gara una bici race piuttosto che una bici endurance infatti abbiamo un angolo del tubo di sterzo da 73 gradi un angolo del piantone da 73,5 gradi e un carro posteriore lungo 41,5 centimetri perciò quello che vi dicevo a inizio video sicuramente un equilibrio per ottenere un ottimo comfort ma anche delle prestazioni più che validi e più che interessanti passiamo poi all'allestimento questo modello cioè l'8.0 è allestito con il gruppo completo SRAM FORCE ETAP AXS vedete qui la guarnitura che è da 175 mm nella misura L prevede già il misuratore di potenza integrato quark e la dentatura anteriore è 48,35 sul posteriore invece abbiamo un pacco pignoni 10,33 perciò una rapportatura che permette in pratica di affrontare qualsiasi tipo di percorso senza problemi in merito ai dischi canyon ha optato per due rotori da 160 mm sia sull'anteriore che sul posteriore. Le ruote sono le Reynolds AR41 che come dice il nome stesso hanno un profilo in carbonio da 41 mm e un canale interno da 21 mm quindi piuttosto largo ma che corrisponde ormai a quello che è lo standard soprattutto sugli allestimenti delle bici Endurance. Le ruote Reynolds sono completate e sono montate con copertoncini Jualbe Pro One EVO da 30 mm in versione ovviamente tubeless ready anche se in questo caso notate che sono montate al momento per camera d'aria ma nelle prossime settimane sicuramente li testerò anche in versione tubeless. La pressione massima in questo caso è di 5,5 bar ma vi posso dire che ho trovato il mio equilibrio addirittura con una pressione inferiore ai 5 bar considerate che sono 67 kg al momento. Vi faccio notare anche come un copertoncino da 30 mm abbinato ad un canale interno da 21 mm vada ad avere una sezione veramente molto larga che permette di migliorare il comfort ma anche la stabilità di guida in discesa e tra l'altro notate che la luce e quindi lo spazio all'interno della forcella è ancora abbondante quindi si potrebbe andare a montare un copertoncino ancora più di sezione. l'allestimento è completato dal cockpit quindi dal manubrio dall'attacco integrato in carbonio realizzato direttamente da canyon così come da canyon è realizzato il reggisella vcls in carbonio anche in questo caso vedete una struttura particolare che è fatta da due parti accoppiate tra loro che hanno l'obiettivo anche in questo caso di assorbire meglio le vibrazioni che provengono dal terreno. Il tutto è completato da una sella physique aliante anche in questo caso pensata per massimizzare il comfort. Concludo questa breve presentazione della Canyon Endurance SLX 8.0 con il peso e i prezzi. Il peso in questo allestimento senza pedali in taglie L è di 7 kg 840 grammi mentre il prezzo di 5.499 euro quindi comunque molto concorrenziale se consideriamo l'allestimento con cui arriva di serie questo mezzo. Bene a questo punto riprendo la mia pedalata continuerò il test come vi dicevo ancora per diverse settimane quindi se non l'avete ancora fatto vi invito ad iscrivervi al nostro canale youtube e a continuare a seguirci per scoprire quelle che saranno un po' le nostre valutazioni finali su questo mezzo. Vi do appuntamento ai prossimi video e vi saluto. Ciao a tutti!